Essere amici di Dio e profeti, questo è l'invito che sta nel cuore dell'Assemblea Diocesana dei Catechisti che si è svolta sabato scorso nella chiesa del Beato Palazzolo in città. I lavori sono stati aperti dalla preghiera guidata dal Vescovo Pierantonio che ha anzitutto ringraziato i catechisti per il loro impegno e li ha poi esortati a non guardare in questa fase ai numeri ma a puntare alla qualità evangelica degli incontri proposti ai ragazzi. Don Paolo Carrara, insegnante di pastorale, ha poi invitato a rileggere il tempo per abitare ogni attimo, ovvero una lettura sapienziale del volto attuale della chiesa. Quello che è accaduto negli scorsi mesi e che in parte sta accadendo ancora adesso ci fa capire che nulla è scontato. Allora mi sembra che l'atteggiamento primo fondamentale con il quale intraprendere questo anno pastorale anche sotto il profilo della catechesi sia proprio questo, cioè non dare per scontato e quindi valorizzare anzitutto il fatto di potersi trovare, di potersi incontrare, di poter incontrare, vedere, accompagnare questi bambini, questi ragazzi che attraverso i percorsi della catechesi appunto i catechisti possono incontrare. A volte anche la valorizzazione di questi aspetti molto più semplici che diamo per scontati si può rivelare qualcosa di particolarmente prezioso. Al termine sono stati poi proposti alcuni spunti pedagogici per la ripresa del cammino di CFR a partire dalle testimonianze di Marta Seghizi, giovane psicologa, Giovanni Landi, educatore e catechista e madre Liana Zanoletti, suorica nozziana e insegnante. Soprattutto la relazione, recuperare un aspetto di relazione intenso anche tra ragazzi e tra di loro ma anche del catechista con i propri ragazzi. Nella relazione recuperare quella che era anche l'incontro settimanale della domenica con la celebrazione eucaristica, quindi recuperare anche della relazione con Dio nella liturgia e trovare anche nuove modalità per recuperare il cammino che è stato in parte interrotto dell'iniziazione cristiana, almeno in questi primi mesi di anno pastorale. Il futuro delle attività dei nostri oratori è sicuramente incerto, ma non manca la voglia da parte di tutti di mettersi in gioco per ripartire. Io invece però chiedo spesso appunto i catechisti di andare proprio loro nelle case, nelle famiglie, a trovare appunto le famiglie, i genitori, a far vedere che sono amici della loro famiglia, non sono magari degli inquisitori che stanno lì a segnare semplicemente appunto la presenza o meno il catechismo, ma propongono appunto l'attività del catechismo con vera amicizia, proprio ti do Gesù, ti consegno Gesù, ti trasmetto Gesù proprio perché ti voglio bene, proprio perché appunto ti sono amico, non per altre cause.